Buongiorno a tutti, sono Andrea Negro, responsabile immagini e comunicazioni per il gruppo BCS, protagonista ai novitici in campo 2017, la serie Volcan K105. Qui vediamo la versione a ruote differenziate passo corto, SDT, dotata di doppio sistema di sterzo dual steer, questo permette di poter uscire ed entrare nel filare successivo con una sola manovra. Il trattore infatti raggiunge raggi di volta fino a 70 gradi. Il trattore è allestito con cabina compact, low profile, quindi che raggiunge un'altezza da terra di soli 170 cm, cabina che è omologata e certificata categoria 4. Il trattore qui a Novitici in campo 2017 è dotato di inversore elettroidraulico a gestione elettronica Easy Drive, questo è un brevetto di BCS che permette all'operatore di cambiare la direzione di marcia solamente agendo sulla leva posta alla sinistra del volante e senza intervenire sul pedale della frizione. Questo ovviamente è molto più confortevole per quanto riguarda il comfort operativo dell'operatore e l'operatore può svolgere tutte quelle azioni di cambiamento di marcia dalla marcia avanti alla marcia indietro in modo molto più pratico e molto più veloce.